Per lo ieri, lei che cosa deve del suo successo a Craxi? Qualcosa glielo dovrà pure, almeno un decreto? Io credo che non ci sia stata un'influenza diretta di Craxi sul mio successo, quindi credo che da questo punto di vista non gli debbo nulla. Per quanto riguarda il decreto, il famoso decreto Berlusconi è un decreto che qualunque buon governante avrebbe fatto, anche per il motivo che c'era una rivolta nel paese, c'era stato un intervento di pretori che andava nella direzione del monopolio di Stato contro le televisioni private, contro tutte le televisioni private e quindi io non vedo come non potesse esserci quel decreto. Le ricordo anche che quello fu il decreto col quale poi fu data la RAI 3 al Partito Comunista. Senta, ma più in generale, al CAF, cioè all'alleanza tra Craxi, Forlani e Andreotti, lei che cosa deve? Si sente legato, voglio dire, a un'amicizia politica che rinnega oppure no? Io non rinnego nulla assolutamente, né delle cose che ho fatto, né di quel che è successo. E quindi neanche dei rapporti? E neppure dei rapporti, naturalmente. Senta, in ogni caso, comunque riconoscente, no al CAF, lei oggi è il protagonista, l'abbiamo detto, della più spettacolare exploit politico che si ricordi. Un partito nato dal nulla in tre mesi. Quanto le è costata la campagna? Citava di questa società che se ne è occupata. Sì, quanto costerà, perché ancora la campagna è in corso. Insomma, complessivamente quanto costerà? Credo che arriverà a costare intorno ai 14 miliardi, che è la cifra che la legge consente a una forza politica che sia nazionale di spendere. E l'ha pagata lei questa tutta? No, credo che questo sia un bel salto avanti rispetto ai finanziamenti che eravamo abituati a vedere o a non vedere dei partiti tradizionali, quelli oscuri, quelli che derivano dalle tangenti, quelli che vengono dai paesi dell'est. Qua ci sono soltanto i soldi degli iscritti, dei simpatizzanti e dei sostenitori e io ho dato una mia personale garanzia nel caso tutti questi versamenti non arrivino a coprire l'interazione. Non fossero coperti, fino a 14 miliardi. Ma che effetto le fa essere un caso unico al mondo? Cioè è una cosa che orgoglio un po'. Ma io sono allenato perché io sono stato un caso unico col Milan. È vero, anche con le televisioni è l'unico al mondo. Anche col volei. Ah sì. Le televisioni sono un'unico al mondo ad avere tre reti, non sei come diceva la scheda. Insomma, le due tele più e l'Italia a sette. Mi sono state tolte dal CAF, che mi ha tolto anche un bel po' di giornali, l'Espresso, la Repubblica, 14 giornali regionali. Non si lamenti. Il giornale nuovo. Senta, non si lamenti. La pubblicità locale, la pubblicità areale e il 90% delle televisioni a pagamento. Andiamo un po' con ordine, perché non mi sembra che gli manchino gli strumenti di comunicazione. Senta, il suo amico nemico Montanelli dice che lei adesso si sente un po' Churchill e un po' De Gaulle. Ma il grave è che ci crede davvero. È così? Ci crede davvero? Dice una grande panzana, io credo di essere me stesso, mi basta e d'avanza. Senta, ma che cos'è che l'ha folgorata sulla via di Damasco? Davvero la paura di perdere tutto improvvisamente e non avere più punti di ferimento, come dice Montanelli, o che cosa? Quello che stava succedendo nel Paese, chi è responsabile come me, no? Ecco, ma volevo dire, scusi, volevo metterla così. C'è stato un momento, un giorno, un istante, che lei si ricorda, che ha detto, dopo un po' di incertezza, ha detto, a lei, vado. No, no, è stato un processo che è stato anche abbastanza lungo e anche abbastanza drammatico e credo che nessun gruppo possa pensare di stare bene dentro un sistema che va male, come anche nessuna famiglia può pensare di mantenere il benessere se le altre famiglie vanno a rotoli. Quindi credo che ci fosse bisogno di un intervento. Sì, ma anche un po' la paura di perdere quello che aveva. Forse all'inizio c'è stata qualche preoccupazione, poi direi che è intervenuta una considerazione molto più ampia e più profonda. Ecco, ma secondo lei qual è la qualità principale che deve avere un politico oggi, nel nuovo contesto? La qualità principale? Forse la fiducia, quello di dare fiducia a tutti gli italiani. E lei ce l'ha? Il 67% degli italiani dice di sì, spero che anche gli altri tuttavia che non fanno parte di questo 67% possano essere convinti coi fatti. 100% no, ma mi piacerebbe innalzare questo 67%. Ma quando ha capito di averla questa capacità? Quando suonava, quando intratteneva da ragazzo? Cioè quando è che ha capito di avere questa capacità? Che pensa di avere? Di dare fiducia? Beh, non è una capacità che uno capisce di avere. Beh, insomma si accorge che ce l'ha vedendo le reazioni degli altri. Con le azioni, con il comportamento, con le promesse mantenute, con le parole trasformate in fatti. Ma l'ha deciso all'ultimo momento però, insomma, di fare politica? No, io ho cercato per lungo tempo, dopo l'approvazione della legge elettorale maggioritaria, e dopo i risultati delle elezioni amministrative ho cercato per molto tempo di convincere i politici in campo a mettersi insieme a quelli dell'area liberale democratica. Non ci sono riuscito e alla fine anche quello che ho visto nel frattempo, certe meschinità, certe pochezze, e anche il desiderio grande di cambiamento che saliva da tutte le parti, mi hanno convinto che dovevo farlo. Senta, Eugenio Scalfari dice che però lei già due anni fa gli aveva detto io sarei il vero leader della legge, ma quello scemo di Bossi, non come quello scemo di Bossi, leggo testualmente, ma come si fa? Ho i miei affari. Conferma questa, lui l'ha scritto fra virgolette. E lui ha mentito. Ha mentito? Lei lo smentisce, non pensa che Bossi sia uno scemo. Sia l'aggettivo scemo, sia la parola affari non fanno parte del mio linguaggio. Lui ha attribuito a me un suo pensiero, e non è la prima volta che gli succede. si è preso del calunniatore, da parte mia non ha potuto rispondere nulla.